Recentemente una notizia scioccante ha sconvolto il Regno Unito e oltre. Kate Middleton ha rivelato di essere in lotta contro il cancro. A gennaio si era appreso che la principessa era stata ricoverata per un intervento all'addome, ma i dettagli erano rimasti scarsi. La famiglia reale britannica aveva mantenuto il massimo riservo. Dopo due mesi è venuta fuori la tragica verità. La principessa sta combattendo contro una grave malattia. Il mondo intero è in sospeso desideroso di conoscere di più sulla sua effettiva condizione. Tuttavia sono emersi dettagli sconcertanti che hanno cambiato completamente la narrazione, rivelando segreti che la principessa cercava di nascondere. Jonathan Rainer, un medico statunitense, ha cercato di dare spiegazioni sostenendo che la chemioterapia preventiva non ha senso e che la principessa sta nascondendo qualcosa. Il medico ritiene che l'equipe medica che ha assistito la principessa fosse già a conoscenza della patologia e che non avrebbe proceduto con l'intervento se non fosse stata informata della sua condizione. Pertanto, secondo lui, non si tratta di chemioterapia preventiva come dichiarato dalla principessa, ma di una terapia effettiva. Per quanto riguarda l'aspettativa di vita, al momento è difficile fare previsioni senza conoscere i dettagli specifici del tumore.